Buongiorno a tutti, gentili telespettatori, raccolgo il testimone da Camilla Cataldo, oggi assente giustificatissima, siamo alla vigilia di un fine settimana intensissimo con la VL impegnata in casa con Varese, ma siamo reduci anche dal turno infrasettimanale di Serie B che sta vivendo una sorta di autentico tour de force e che domenica ovviamente sarà di nuovo in campo, ottimo momento per la Luciana Mosconi che ha battuto un cliente difficile come Ozzano affiancando a quota 12 in classifica Iesi e Senigallia in una gradatoria comunque molto incerta, poi ne parleremo almeno nella parte centrale. Di questo e di altro parleremo con i nostri ospiti, intanto ritrovo con grandissimo piacere Piero Cohen. Ciao Piero, ben trovato. Salve, grazie. Coach della Luciana Mosconi, il campetto Ancona, con lui Daniele Giacchi che è il team manager del club Dorico. Ciao Daniele, benvenuto anche a te. Allora Piero, io ho detto avversario scorbutico, Ozzano, perché tradizionalmente un po' è così, se ci vuoi descrivere sommariamente la partita del turno infrasettimanale, 91 a 84, come si suol dire due punti pesanti e niente affatto scontati, sintetizzando al massimo. Allora, sintetizzando al massimo, sono due punti molto pesanti perché noi veniamo da un momento difficile per vari aspetti che magari in questo momento non sto qui a specificare. Ozzano che è una squadra dalle spiccate dotte offensive e comunque con giocatori di ormai provata esperienza, di talento, con grandi qualità, per cui a parte che in questo giro non c'è veramente nulla di scontato, in un momento come questo per noi era ancora più complicato pensare di vincerla, però ce l'abbiamo fatta e per questo sono punti veramente pesanti. Abbiamo dato Daniele un'occhiata al tabellino, spicca decisamente la prova della vostra giovane guardiala, Nicola Calabrese, un 2001, 21 di valutazione, 14 punti, 6 rimbalzi, niente male per un ragazzo. Sì, Nicola stava attraversando un momento non del tutto positivo, poi chiaramente sta venendo fuori, il coach gli ha dato molta fiducia in queste ultime partite, partendo sempre dal quintetto, quindi credo che per lui questo gli ha dato la giusta grinta per affrontare bene queste partite. Le notte positive, come ha detto giustamente il coach Piero Cohen, c'era stato un momento abbastanza altalenante della Luciana Mosconi, ma questa è stata una vittoria decisamente importante, c'è stato anche il rientro di Leonardo Cilibeni, giocatore molto esperto, 30 anni, 12 punti, una pedina essenziale, no credo per te? Sì, è una pedina fondamentale, tieni conto che abbiamo fuori anche Tourette, e quindi noi siamo già in partenza una squadra composta con un senior in meno, quindi non ha potuto giocare Leo a Piacenza, era in forze con Ozzano, però a un certo punto lo abbiamo rischiato, è stato un rischio abbastanza calcolato se vogliamo, però le probabilità che potesse magari venirne fuori male non erano poche, però siamo in un'emergenza tale in cui ho dovuto rischiare, pur sapendo che poi a distanza di 3-4 giorni avremmo rigiocato. Più che una scelta, una necessità. Una necessità, perché a Piacenza comunque, nonostante tutte queste assenze, abbiamo perso di due punti, in casa la partita prima, con Leo che era uscito dopo 8 minuti, siamo riusciti a portarla a casa, quindi è per questo che dico che sono vittorie pesantissime, per il periodo che stavamo e stiamo ancora tuttora attraversando, anche abbastanza inaspettate. Era anche la giornata, Daniele, di un derby classico, quello tra Senigallia e Iesi, non so se l'hai seguita, ha vinto la General Contractor con 5 uomini in doppia cifra, ho dato anche chi un'occhiata, hanno fatto la differenza ai rimbalzi, 48-33, con queste cifre è difficile portarla a casa per Senigallia. Sì, ho visto che chiaramente Senigallia, come sempre, dà sempre meglio di sé, perché anche domenica era avanti, mercoledì uguale, poi alla fine ha perso, quindi fondamentalmente Senigallia è una squadra che, nonostante la giovanità, nonostante abbia alla fine in Santucci, Pozzetti, gli elementi fondamentali di questa squadra, riescono sempre a giocarselo o a portarla a casa. Quindi anche Senigallia è una squadra da tenere molto in considerazione. Assolutamente. Allora Piero, al netto delle problematiche che avevate e che avete, 11 partite, 6 vittorie e 5 sconfitte. Che bilancio puoi trarre sinora? Forse qualche rimpianto per qualche match perso sul filo di lana? Tu accennavi per esempio a Piacenza una settimana fa. Ma sì, ad onor del vero abbiamo perso stando sempre sotto, devo dire la verità. Ma quindi è una sconfitta che ci sta tutta. Magari abbiamo perso all'inizio dell'anno due gare, dove ci sono mancati un paio di giocatori, lo stesso due gare tirate, punto a punto, dove visto appunto il nostro organico, queste pedine potevano essere determinanti. Però sai, ogni squadra, ogni allenatore ha sempre da ricriminare qualcosa. Non vorrei essere quello che dice sempre le stesse cose. Abbiamo gli infortuni e gli avversari sono sempre fortissimi. Perché gli allenatori, un po' perché devono mettere avanti le mani. E quindi sentire sempre la solita solfa, non vorrei essere anch'io uno di quelli. Però diciamo che 12 punti era quello che potevate prevedere alla vigilia o manca qualcosa? Ma guarda, è una squadra completamente rinnovata, con un'età media bassissima. Come dicevo prima, abbiamo sei soli senior, di cui un paio appena usciti dallo status di senior. E quindi non sapevamo che tipo di campionato poteva aspettarci. Quello che risulta è che il campionato è molto equilibrato e ogni partita non sai come andrà a finire, a parte qualche squadra particolarmente forte. Per cui oggi sono estremamente soddisfatto di avere questi 12 punti. Magari all'inizio dell'anno potevi sperare di averne due di più, però per come stanno le cose devo dire che sono molto contento. Senti Daniele, un po' lo accennava Piero, però la vostra è una squadra un po' particolare, nel senso che avete qualche giocatore di esperienza, Cilibeni, Pansini, Tureca e Fuori, Carnovali, poi una sorta di salto anagrafico, perché c'è Bedin, che mi sembra che sia un 99, e tanti, tanti, tanti giovani. Manca la middle class, la classe di mezzo alla fine. Sì, vero. Su questo è stato, diciamo, all'inizio dell'anno affrontato questo tipo di discorso per costruire la squadra, e quindi credo che ognuno di loro, proprio perché sono giovani, devono tirare fuori quello che è la loro giovane età. Chiaro, non è semplice, perché chiaramente, come diceva il coach, chi è all'ultimo anno da under, oppure chi è passato da under a senior, farà più fatica, però credo che è lo stimolo giusto per dire posso stare in questa serie, oppure, ahimè, non riesco a starci. Quindi per loro è una sorta di sfida che la devono prendere, secondo me, come un'importante, ma grossa possibilità di venire fuori. Certo, una grandissima chance. Quali sono i ritratti distintivi della vostra squadra? Particolare, no? Perché, abbiamo detto, esperti, poi giovanissimi. Ma la cosa particolare che salta più all'occhio, essendo una mia squadra, è che magari subiamo tantissimi canestri, no? Strano. Cosa che abitualmente le mie squadre non fanno, assolutamente. Però abbiamo grosse difficoltà ancora a trovare un equilibrio, perché l'inesperienza ti porta a fare errori veramente importanti, e noi purtroppo continuiamo a farli, questo è un dato di fatto, è inutile che stiamo qui a nasconderlo, quindi abbiamo bisogno di tempo, non sono cose che si risolvono nel breve, di questo abbiamo la consapevolezza, per cui con la consapevolezza dei nostri limiti, però dobbiamo essere bravi, come abbiamo fatto in questi ultimi dieci giorni, essere bravi a portare a casa il risultato in qualche modo. E questa è una cosa molto positiva, perché nonostante queste grosse lacune difensive, siamo riusciti a portare a casa vittorie pesanti e difficilissime. Allora, io anche a beneficio un po' dei nostri telespettatori, cerco di ricapitolare sintetizzandolo un po' la formula di questo campionato. Dunque, le prime quattro vanno a disputare i play-off per la Serie A2, poi alla Serie B 23-24 vanno le 14 non promosse dai play-off. Le quattro squadre all'interno di ogni girone, 16 complessive, vincitrici del turno di qualificazione, che andrà al meglio delle tre partite su cinque. Quelle squadre perdenti di questo turno di ammissione alla Serie B, assieme a quelle classificate ovviamente dal tredicesimo al sedicesimo posto di ogni girone, saranno riposizionate, diciamo così, nel nuovo campionato interregionale nella stagione 2023-24. Quindi vengono un po' ridisegnati i campionati, ne abbiamo parlato anche un mesetto e mezzo fa. Vi chiedo qual è, Piero, il vostro giudizio su questa nuova ristrutturazione dei campionati? Sicuramente si avrà una qualità migliore, generale, anche se noi onestamente sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo trovato un girone dove ci sono concentrate parecchie squadre ben attrezzate. Ma se dovessimo fare una panoramica di tutti i quattro gironi ci sono squadre che il cui livello è veramente basso. Per cui questa nuova riforma si porterà a un miglioramento generale della qualità e quindi la vedo come una cosa sinceramente positiva. Si cerca un po' di ripercorrere la vecchia serie B1 di una volta, Piero? Probabilmente sì, anche se, devo dire la verità, è ancora un po' lontana rispetto a quella B1 che aveva una qualità molto elevata. Assolutamente, c'erano squadre clamorose, mi ricordo la Stefano, il Verona. Tante veramente importanti che oggi giocavano in Serie A senza minimo... Assolutamente, Serie A di alto livello. Tu, Daniele, un giudizio su questa ristrutturazione? Credo che sia importante farlo, nel senso che siamo in una Serie B che definire la Serie B, come dice il coach, non è proprio dire sì, la Serie B, no. La Serie B era quella che si faceva all'epoca come si chiamava, B1, B d'eccellenza. Quello era un bel campionato dove anche molti italiani dalla Serie A2 scendevano e quindi rendeva tutto questo campionato sicuramente di altissimo livello. Quindi non ci arriveremo subito, magari dal prossimo anno, ma credo che piano piano arriveremo a fare questo, che è il campionato che ci merita. I nostri due ospiti sono cuori bianco-verdi, doc, diciamo così, nel vero senso della parola. Piero Cohen ha poco bisogno di presentazione, ma anche tu, Daniele, hai poco bisogno di presentazione perché diciamo che hai la stamura nel cuore. Utilizziamo questa vecchia definizione, ma per la pallacanestro Anconetana è sempre un nome caro e ricco di fascino. Sì, quest'anno tra giocatore e team manager sono 26 anni, quindi una vita, considerando che ho 39 anni, quindi per me è stato importante. Ringrazio il coach perché avevo pochissimi anni, avevo 13 anni e mezzo, quando lui mi ha preso dalle giovanili, mi ha messo nel roster della prima squadra per iniziare ad essere il giovane che si deve far trovare pronto per ogni partita. Poi da lì sono stato molti anni con Piero, quindi non posso negare la mia soddisfazione perché chiaramente con lui ho giocato in questo campionato che era la B1. Quindi per un giovane fare questo campionato è sicuramente un'emozione, ma una soddisfazione importante. Piero, tu hai girato MezzItalia, però il senso di appartenenza alla Stamura è nel DNA, no? Ma sì. La chiamiamo ancora Stamura, ovviamente parliamo di Campetto, Luciano Mosconi però. Sì, sì, no, ma credo che il fatto di poter allenare la mia città è un motivo di enorme soddisfazione, questa è la cosa più importante, no? Poi parliamo diciamo di Stamura, a cui mi lega la mia giovinezza e il mio inizio da allenatore, perché quando ho iniziato a allenare siamo partiti dalla Serie C con sette anni consecutivi, che è una cosa rara, no? Non riuscire a stare per sette anni nella stessa società e per questo dovrò sempre ringraziare l'allora presidente Tittarelli che mi ha sostenuto e insieme siamo arrivati ai play-off per la Serie A. Quindi sono legato ad Ancona, alla Stamura, da ricordi bellissimi e ti ripeto, essere qui oggi ormai non più giovanissimo è motivo di grandissima soddisfazione. Senso di appartenenza è un valore aggiunto, no? Sì. Che forse voi cercate anche di trasmettere ai vostri ragazzi. Assolutamente sì, assolutamente sì, parli di un valore che secondo me è fondamentale. Devo essere sincero, un buon giocatore, un buon allenatore deve avere questo senso di appartenenza indipendentemente se può essere la tua città o la tua società da anni. Sì, però... Ecco, questa è una cosa importantissima. È chiaro che per me, ripeto, essere ad Ancona è veramente qualcosa di... veramente bellissimo, è veramente molto bello per me. Andiamo a conclusione di questa prima parte, alla domanda più scontata in assoluto. L'obiettivo è cercare di far parte di questa nuova Serie B 23-24, no? Penso che sia scontato. Certo, certo. Noi stiamo lavorando per poter raggiungere questo futuro campionato che sarà la Serie B di eccellenza. Adesso non so neanche come verrà chiamata. Non sarà semplice, anzi sarà molto complicata, però abbiamo tempo per sistemarci, abbiamo tempo per mettere a posto le cose, farci trovare nel momento in cui arriveranno i play-off pronti. Poi dico, sai, al meglio delle cinque partite il fattore campo non è più determinante, lo dice la storia ormai. Per cui la cosa importante per noi è avere il tempo per far crescere questi giovani e farsi trovare al momento giusto quando arriveranno i play-off. È chiaro che le squadre che arriveranno dal quinto all'ottavo posto avranno la possibilità di giocare l'eventuale bella in casa. Però non siamo assillati assolutamente, soprattutto in questo momento, da questo fattore. Perché se magari all'inizio dell'anno pensavamo fortemente di voler arrivare in queste prime posizioni, oggi il nostro obiettivo è più rivolto alla crescita della squadra, senza farci deprimere o assillare dall'obiettivo dei primi otto posti, perché altrimenti rischiamo di andare in una depressione sportiva. Quindi dobbiamo avere ben chiaro l'obiettivo, qual è il nostro obiettivo oggi. Il nostro obiettivo è di arrivare al meglio, avendo costruito una squadra che ha un suo equilibrio, un significato. Per fare questo dobbiamo dare tempo a questi giovani di crescere. di crescere, ma dobbiamo essere tutti bravi a farlo perché il compito è comunque molto complicato. Non c'è dubbio. Poi parleremo in maniera più diffusa di questo campionato, adesso linea per un attimo alla regia, poi torneremo di nuovo in studio con Piero Cohen e Daniele Giacchia tra poco. Seconda parte della nostra trasmissione con Piero Cohen e Daniele Giacchia, rispettivamente coach e team manager della Luciana Mosconi Ancona. Analizziamo un attimo la classifica. Piero, chiaramente c'è la Real Sebastiani Rieti che con 10 vittorie ed una sconfitta guida la gradatoria, d'altronde è un organico di grande spessore. Coach Sandro Dell'Agnello alla guida di Fabriano, parliamo dopo. In realtà c'è un bel equilibrio, certo ci sono squadre che oggettivamente sulla carta c'è la nostra Alley Matelica che è ancora a digiuno di vittorie, però forse tu lo accennavi, non c'è quasi nulla di scontato, no? No, prendendo ad esempio Matelica ha perso tantissime, tutte le partite le ha perse, o la maggior parte delle partite giocandosela fino alla fine. Con Fabriano compreso se non sbaglio. Con Fabriano compreso, esattamente. Quindi è un girone estremamente equilibrato. Affrontare Matelica non è scontato vincere, come affrontare Empoli non è scontato vincere, e vediamo gli ultimi risultati, no? Se pensiamo a San Mignato, noi abbiamo vinto in condizioni veramente rimaneggiate, poi hanno vinto contro Faenza, per dire, no? Quindi questo sta a significare che ogni partita è veramente complicata e non sai come andrà a finire. Poi è chiaro ci sono alcune squadre come Rieti o la stessa Faenza sulla carta o Firenze che fanno parte, secondo me, di una fascia più alta rispetto al gruppone. Poi ce ne sono alcune magari che hanno qualcosa in meno, vedi Cesena, vedi la stessa Empoli o Matelica che sta comunque cercando di trovare un equilibrio. Poi comunque anche con queste squadre qua è difficile riuscire a portare a casa il risultato, è molto difficile, è molto complicata. La stessa Cesena è andata a vincere a Imola. E questo è anche il bello, no? Sì, è bello di questo campionato. È un campionato particolare dove nessuno può pensare, a parte, ripeto, le primissime della classe, diceva bene, comunque arriverà un momento in cui possiamo recuperare. Qua rischi di andare in apnea e non rialzarti più, ecco perché ti dicevo che queste tre vittorie per noi sono state fondamentali per poter non andare in depressione. Daniele, una parola anche tu sul livello generale di questo campionato, anche se un po' l'abbiamo anticipato, no? Sì, fondamentalmente quello che ha detto il coach è tutto veritiero, nel senso che a livello costante e preciso non ci sono, sì, ci sono quelle due o tre squadre che fanno la differenza, ma il resto, diciamo, sono partite che te le giochi e devi stare attento pure a portarle a casa, nel senso che devi essere concentrato tutti i 40 minuti perché non c'è una squadra che ti lascia quello spazio per dire, ah, mi rilasso un attimo, no? Nessuna squadra ti porta a questa rilassatezza che magari dici, ah, vabbè, gioco con l'ultima, no, assolutamente. Come diceva il coach, anche San Mignato, mercoledì, scusate, con Fabriano è sempre stata lì, punto a punto, poi chiaramente Fabriano se n'è andata, però c'è da capire che anche l'ultima della classe può fare il colpaccio nella squadra più forte o più corazzata del campionato. Oltre al fatto, aggiungo io, che ci sono piazze storiche come Rieti, come Imola, con le sue due franchigie, Iesi, eccetera, eccetera, che rendono anche più appassionante, insomma, questo torneo. Veniamo, Piero, ad un classico, no? Perché domani alle 18 al Paralossini il derby con l'Aristo Pro Fabriano che reduce da sette successi consecutivi, sette, insomma, una squadra che non scopriamo noi con Centanni, Stanic, Jan de Folle, eccetera, eccetera. Come si affronta questa squadra che sembra veramente sulle ali dell'entusiasmo in questo momento? Anche se pure Fabriano fatica a vincere le sue partite. Beh, Fabriano, tra virgolette, fatica perché è vero, ha faticato con San Mignato, però aveva vinto poco prima a Firenze, senza un giocatore molto importante. E la vittoria a Firenze e a Rieti testimonia il fatto che Fabriano è in una grandissima forma e sinceramente è molto complicato oggi giocarsi contro, no? Indipendentemente poi se giochi in casa o meno, anche perché ci aspettiamo che da Fabriano arrivino parecchi tifosi. Questa è l'unica cosa certa forse. Ecco, esatto, esatto. Quindi il fattore campo non ci sarà nemmeno. E affrontare Fabriano in questo momento qua è molto difficile, perché si affrontano due squadre, una che ha trovato un equilibrio, data anche dall'esperienza di certi giocatori che sono abituati a lottare per vincere i campionati, mentre dall'altra parte una squadra che è alla ricerca di un equilibrio, che è stata brava magari a vincere queste gare, come dicevamo prima, però ancora molto indietro sotto il punto di vista dell'organizzazione e dell'equilibrio. Quindi le motivazioni intanto diventano una cosa importantissima e spero che nonostante la giovanità riusciremo a trovare energie mentali, energie nervose per superire la mancanza di esperienza rispetto a certi giocatori che affronteremo. Poi è chiaro che un pochino di tattica dovremo far sì che ci aiuti a colmare certe lacune che abbiamo in questo momento. Questo è fuori discussione, cercheremo delle soluzioni anche a livello tattico, ma credo che Fabriano questo se lo aspetterà. Una vigilia come le altre, Daniele, oppure un po' più particolare, visto che parliamo non dico di un super classico, ma di un vero e proprio derby, no? Sentito. Sì, un derby molto sentito, quindi chiaramente avremo il nostro ex di turno, una storia chiaramente come Fabriano importante, noi cercheremo di recuperare anche Momo Toure, Leo speriamo stia meglio, ci ribeni con la spalla e quindi affrontare questa partita al completo. Chiaramente non ci si deve aspettare niente, nel senso che il derby è sempre un derby, quindi bisogna tirar fuori chiaramente tutto quello che abbiamo, perché i derby sì, ci può essere una squadra fortissima, però il derby ha un suo fascino che è proprio quella di giocarsela e provarla a vincere. A livello di stimoli, Piero, è una gara che si prepara da sola, no? Forse il coach deve anche essere bravo a non aumentare la pressione sui ragazzi, presumo. Sì, normalmente succede questo, però la squadra di quest'anno è molto particolare, quindi fai fatica anche a decifrarla in certi casi, però io credo che i più vecchi, che sono pochi all'interno della squadra, sapranno spiegare come affrontare questo tipo di partita e soprattutto far capire, credo che il compito più importante sia quello di far capire che di là trovi una squadra che non ti perdonerà niente, perché proprio ha giocatori che non ti perdonano errori che noi abitualmente abbiamo commesso fino ad oggi, errori a volte molto banali, quindi ci vuole un'attenzione, una concentrazione superiore. È chiaro che uno dice come fai a trovarla, questa non è che la compri al supermercato, però l'invito che io faccio ai giocatori è quello di prepararsi mentalmente, di saper vivere la partita prima di entrare, ma sin dal prossimo allenamento della mattina e della domenica che andremo a fare, anche lì bisognerebbe essere sintonizzati già sulla gara. Perlomeno questo è il messaggio che mando, perché un po' la vivo anche come giocatore, è quello che facevo, mi preparavo mentalmente, mentre ero lì a fare il tiro, mentre ero lì a fare l'allenamento, già pensavo all'avversario che affrontavo, già pensavo al clima che avrei trovato, già pensavo alla soddisfazione che poteva darmi una vittoria, tutte situazioni che poi ti aiutano a trovare motivazioni. Io questo invito lo faccio spesso ai giocatori e chiaramente è la cosa che farò. E' forse la chiave, no Piero, è proprio questa, cioè il livello di intensità, un conto a dirlo, un conto a farlo, che non dovrebbe mai calare per tutti i 40 minuti quando hai di fronte si fatti avversari. Per quanto riguarda le altre marchigiane, domenica Matelica riceve l'Andrea Costa Imola, la General Contractor Iesi sarà Fiorenzuola, mentre Senigallia sul campo della Virtus Imola. Daniele, parliamo un attimo della Carpegna Prosciutto che ha una sfida importantissima in chiave Final 8 domani con Varese che forse con 12 punti, due in più della VL, la squadra rivelazione del campionato. Vedremo se ci saranno i recuperi di Kravic e Totè, comunque credo un ottimo avvio di stagione per la squadra di Jasmin Repecia, sarebbe stato forse eccellente con la vittoria con Trento, però Pesaro sta andando bene. Pesaro sta facendo oltre le aspettative, secondo me, quindi ritrovarsi in questa classifica secondo me gli dà lo stimolo per affrontare le partite sempre nel modo giusto. Chiaramente ha trovato un bel gruppo, hanno fatto un bel gruppo anche con il coach che è ritornato dopo anni, è stato un andare e venire, andare e venire alla fine. Tra l'altro si è ritrovato anche un bel ambiente, ha preso un grande calore da parte del pubblico. Esatto, il pubblico è ritornato, il pubblico diciamo di qualche anno fa e quindi sta lavorando come si deve lavorare. Molti giovani, perché alla fine ci sono anche giovani, esperti e meno esperti, però chiaramente è una squadra non così eccelsa dal punto di vista, però sta facendo bene. Ultima cosa, Piero, quale sarebbe, se ce lo puoi dire, svelare la tua massima aspirazione a medio e lungo termine con questi colori? Saresti soddisfatto un giorno se? L'ideale sarebbe finire la carriera in Acuna, però non lo so se è bello dirlo perché potrebbe finire anche in quest'anno, però l'augurio di riuscire a stare qui il più possibile per la mia città, per questa società. Questo sicuramente è l'augurio che io mi faccio. Per dare continuità a una storia? Sì, a una storia di una società gloriosa e anche alla mia di storia che ormai comincia a essere datata, direi no, quindi l'ideale sarebbe chiudere il cerchio in questo modo, però vorrei allenare tanti anni, non so se saranno in grado di sopportarmi per tanti anni. E' così difficile sopportarlo? Ma io sono, ti ripeto, io ero giovanissimo, giovanissimo, quindi dovevo stare a quello che giustamente ti diceva il coach. Anche nelle dovute maniere... Questo sempre, eh! Esatto, anche nelle dovute maniere a me mi ha forgiato molto il carattere di Piero, chiaramente mi ha portato ad affrontare le sfide con quella grinta, con quella voglia e poi chiaramente se tu vuoi giocare devi un attimino anche pensare a quello che ti dice e se c'è un urlo in più pazienza. L'urlo viene fatto perché? Perché chiaramente o ci tiene e quindi ti dice guarda, io ti dico determinate cose magari in quel modo perché voglio farti crescere. Quindi bisogna prendere anche nel lato positivo le cose, non sempre nel dire perché l'allenatore urla. No, io l'ho preso in questo modo qui e mi sono trovato bene, quindi non posso dire altro. E quando è tornato l'anno scorso chiaramente per me è stata una gran bella notizia, diciamo così. Bene, grazie a Piero Cohen, grazie a Daniele Giacchi, ricordo l'appuntamento quindi davvero per gli appassionati di basket da non perdere. Domani alle 18 al Palorossini per questo derbissimo tra Luciana, Mosconi, Ancone e Ristopro Fabriano, mentre ricordo ovviamente poi la VL in casa con Varese, partita che possiamo rivedere, potremo rivedere lunedì alle 22 sul canale 13 del Digitale Terrestre, ovviamente sul canale di TVRS. Grazie per averci seguito, buon fine settimana e buona pallacanestro a tutti. Grazie a tutti.